Allora io stasera sono molto emozionato perché questa rappresenta la presentazione del mio primo libro di poesie. Le mie poesie non le ho mai fatte leggere a nessuno, raramente qualcuna magari scritta in maniera criptica l'ho condivisa quella. Le mie vecchie poesie le ho sempre fatte leggere alle persone più care. Infatti questo libro non lo volevo fare, gli editori in realtà ci hanno visto qualcosa che probabilmente io non vedevo e mi sono convinto. Oggi siamo qua a fare questa presentazione.